In idea, in idea, ma quella che gli erano andata sopra? No, quella proprio, no, quella non la so, quella che hanno sentito la fine. Stata a vedere il prossimo gioco, il gavaggio della santa, media e segnala. Chi si è stucinato? Chi si è stucinato? Chi si è stucinato? Prossimo incontro, se lo farei, che è un'altra parte di gioco, la parte di voi. Procediamo alla premiazione della categoria 1, 200 kg. Terzo posto Petchetti e Sciabola, secondo posto Fiorenti, primo posto Peppoli, premia il presidente della FG Campa regionale Andrea Arena. Grazie a tutti. Vincere Mazzotti Al cuorio femminile la categoria Grazie a tutti. Grazie a tutti.